Ripartiamo dal segno del sagittario, ancora una giornata piuttosto monotona, ecco, per voi. E questa parola sappiamo che non vi va proprio a geio, non vi suona proprio bene, perché voi siete il segno dell'avventura, dell'esplorazione, voi siete il segno della mobilità. E questa invece è una giornata in cui sarete costretti magari a rimanere in casa, assorbirvi anche una riunione di famiglia. Ebbè, è chiaro che ci possono stare delle giornate così, quindi cercate di adattarvi il più possibile, altrimenti rischiate di diventare anche antipatici tenendo il broncio, no? Non c'è cosa peggiore di avere una persona visibilmente scontenta, visibilmente insoddisfatta, magari alla propria tavola. Quindi mi raccomando, anche perché i rapporti familiari in questo momento possono essere fonte anche di gioia e di emozioni.